Quello che passerà martedì prossimo potrebbe essere davvero l'ultimo treno per il comune di Foggia per ospitare in città il punto vendita Decathlon. La maggioranza di centro-sinistra non decide e rischia di farsi scippare l'opportunità da Cerignola. Il sindaco Antonio Gianatempo ha già incontrato il responsabile dell'area sud-est di Decathlon Italia, Davide Manzone, ed è stato chiaro, se Foggia non lo vuole, lo prendiamo noi, dice il primo cittadino, che nella lettera inviata a Manzone illustra la strategicità della posizione geografica della città ufantina, allocata sulla dirittrice Foggia Bari, può contare su ben due caselli autostradali e servirebbe l'intera parte settentrionale della Puglia, dal Gargano ai Monti Dauni, al Tavoliere, e via anche ai benefici per il territorio, sia in termini occupazionali, dice Gianatempo, che di immagine, un insediamento di questo tipo, presente già a Bari, Brindisi, Lecce, ma non a Foggia, arricchirebbe il nostro panorama industriale. Gianatempo dichiara di averne anche parlato con il sindaco Mongelli e gli occhi sono tutti puntati sul consiglio comunale di martedì a Foggia, dove approderanno nuovamente gli insediamenti produttivi. Da sei mesi l'azienda Sidi attende una risposta, ma la delibera Decathlon divide la maggioranza e continua a subire rinvii due nel giro di dieci giorni, nonostante garantiscono da palazzo di città il progetto abbia tutte le autorizzazioni necessarie. Le maggiori perplessità sono di PD e Udc, ma anche del gruppo socialista, spaccatosi sul tema nell'ultimo consiglio comunale, tanto da portare l'assessore di riferimento Federico Iuppa, delegato alle attività produttive, a minacciare le dimissioni. Una provocazione fa sapere Iuppa al Tg Blu che garantisce abbiamo avuto un incontro chiarificatore e martedì la delibera riceverà l'ok. Insomma, se sei mesi non sono bastati a mettere d'accordo la maggioranza, il rischio di vedersi sottrarre l'opportunità potrebbe portare il centro-sinistra a fare quadrato. Il progetto Decathlon garantirà inizialmente almeno 30 posti di lavoro, dice Iuppa, località individuata, posta palazzo lungo la statale 16, attraverso una variante urbanistica in verde agricolo, non essendo Foggia ancora dotata di un piano per le attività produttive. Altra questione alla quale il Comune intende imprimere un'accelerata, facendola procedere di pari passo con il Pug, la cui prima conferenza di copianificazione calendarizzata per la fine di gennaio 2011.